buongiorno amici e amiche del canale buon mercoledì e oggi gli argomenti assolutamente non mancano, ieri c'è stato tanto, poi nella pausa della nazionale ancora altro e quindi entriamo nel merito di ogni dettaglio a partire dall'esonero di Antonio Conte alle dichiarazioni di Gravina e al potenziale rinnovo di Rabiot. Ma prima iscrivetevi al canale dai ragazzi che si cresce insieme e lasciate come sempre un bel commento a fine video se vi è piaciuto. Allora iniziamo subito dal nostro amico Gravina. Ieri, come spesso a lui piace fare, intanto avrete notato che sta sempre vicino a due fonti di potere che gli possono fare rinnovare la sua poltrona. Una è l'Inter, sempre vicino alla dirigenza interista e presente a San Siro e successivamente è il Napoli. Ha preso chiaramente lo schieramento anti-juventino e questo è ormai evidente e le dichiarazioni che fa non dice nulla per non farlo capire, prima da una parte e poi dall'altra. Sta difendendo due società che in questo momento gli garantirebbero il terzo mandato di un presidente di FGC che sta rovinando il calcio italiano e sta perseguitando la Juventus. Ieri con la sua bella faccia di tola dichiara che il processo sportivo deve andare avanti nei tempi giusti e garantendo il diritto alla difesa. Diritto alla difesa che lui stesso negò rivolgendosi al Consiglio di Stato per non dare i documenti. Quindi anche qui ci sta prendendo in giro tutti. Poi afferma che tutte le società italiane dovrebbero prendere spunto dal Napoli. Ora per carità il Napoli ha fatto veramente un miracolo sportivo con un grandissimo giuntoli e un ottimo Spalletti creando una squadra che fa un gioco spettacolare e che fisicamente non molla di un centimetro nonostante ormai il campionato sia quasi agli sgoccioli. Quindi complimenti, chapeau a livello sportivo ma che mi vengano a dire che il modello sia il Napoli allora io impallidisco. Impallidisco per quale motivo? Innanzitutto ADL per anni a Napoli non si è mai preoccupato di creare uno stadio adeguato alla sua squadra, alla sua città e alle competizioni sportive che andrà a fare. Si è invece preoccupato di comprare il Bari a pochi soldi per fare un ulteriore affare come lo fece esattamente con il Napoli. Successivamente sappiamo perfettamente l'acquisto di Ozyman come è avvenuto e i magheggi che sono stati fatti con i tre giocatori che non si sono mai trasferiti a Lille. In più sappiamo perfettamente le infiltrazioni che esistono all'interno della sua tifoseria. Non ultimo l'articolo sul giornale sulla torta che deve essere spartita, sulla festa Scudetto e sui vari materiali che dovranno essere venduti. Inoltre quali sono gli asset di proprietà del Napoli ma così come di tante altre società italiane. Quindi nel momento in cui tu mi vieni a dire che il modello è il Napoli con tutto rispetto per il risultato sportivo per il quale non si può fare altro che complimenti e non mi nomini la Juve che ha rivalutato tutto l'area legata allo stadium, riqualificandola completamente, passando da da popolare a residenziale, ha un centro medico, ha un albergo, ha uno stadio di proprietà, ha campi di allenamento, ha la next gen, ha una squadra femminile di altissimo livello. Tutto questo che crea un patrimonio fortissimo all'interno della società Juventus SPA, quindi un patrimonio netto, ok, importante per il quale un giorno quando la Juve, semmai la famiglia vorrà venderla, si valuterà in base al patrimonio, ok, di una società, di un asset, ok, mi viene a dire il Napoli. Allora tu prendi l'intero mondo del calcio per il culo, perché il termine esatto è stai prendendo tutti per il culo e continui a farlo e mi meraviglio, mi meraviglio come una persona seria, come il nostro ministro dello sport, non intervenga fermando quest'uomo e commissariando completamente la FIGC. Altra cosa che mi ha fatto veramente impallidire è il nostro CT della Nazionale che in tutto questo, nella ricostruzione dell'Italia, lascia fuori il miglior centrocampista italiano che abbiamo in questo momento per talento, Fagioli, e lo fa andare a giocare nell'Under 21. Quando Fagioli è ormai un giocatore che gioca nei grandi e nei grandi ci sta benissimo. Queste sono le intere contraddizioni del calcio italiano. Passiamo ad Antonio Conte. So che molti di voi si stanno fregando le mani perché sognano un ritorno in panchina, altri invece non vogliono assolutamente vederlo. Ho lanciato un sondaggio sulla community e vorrei ragazzi che vi partecipaste per farmi capire il vostro parere. Io premetto Conte di nuovo su quella panchina, non lo voglio vedere, perché so perfettamente che Conte è una persona che nel momento in cui le cose non vanno bene, perdete voi e scappo io. Questo fa sempre lui e lo ha già dimestrato. Infine, capitolo Rabiot, che per me è una cosa molto semplice da esplicare, nel senso che è chiaro che se tu devi andare a spendere 50 milioni più ingaggio per un altro centrocampista, rinnovi a certe condizioni al francese che è già integrato nell'ambiente e hai già risolto il problema. Tutto sta a vedere di trovare l'accordo sugli anni di contratto, sull'ingaggio parte fissa più bonus e chiaramente la volontà delle tre parti perché voi sapete bene che la mamma è un pochino esosa. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Fino alla fine, Forza Juventus!